Siracusa flash mob al Plemirio, riserva subito, manca solo una firma che non arriva da 50 anni. Non c'è alcun dubbio, la riserva naturale al Plemirio non la vogliono solo quattro ostinate ambientalisti, ma è volontà della maggioranza del popolo siracusano. Malgrado le restrizioni determinate dalla pandemia, un migliaio di cittadini sono recati ieri alla Pillerina per esprimere il loro legame al luogo e per manifestare la loro indignazione sulla mancata istituzione della riserva da parte del Governo regionale. Un flash mob civile ordinato ha creato il successo della giornata e ha consentito di affermare che la mancata istituzione della riserva naturale non ha giustificazione ed è la conseguenza di una precisa volontà politica. Ogni passaggio burocratico infatti è stato espritato, manca solo la firma al decreto dell'assessore regionale Salvatore Cordaro, una firma che non arriva da oltre cinque anni e che salverebbe l'aria una volta per tutte dalla cementificazione speculativa. La classe politica si convinca che la riserva è l'unico strumento per creare in quest'area una possibile armonia tra umanità e natura in linea con le politiche ambientali europee e sullo sviluppo sostenibile. A scanso di equivoci i partecipanti al flash mob non si sono concentrati tutti insieme nello stesso posto ma si sono spalmati nel rispetto delle norme anti-covid nelle varie calette e radure di punta della mola.